Bisognerebbe sapere attendere e raccogliere, per una vita intera e possibilmente lunga, senso e dolcezza. E poi, proprio alla fine, si potrebbero forse scrivere dieci righe valide, perché i versi non sono, come crede la gente, sentimenti che si acquistano precocemente, sono esperienze. Per scrivere un verso bisogna vedere molte città, uomini e cose. Bisogna conoscere gli animali, bisogna capire il volo degli uccelli e comprendere il gesto con cui i piccoli fiori si schiudono al mattino. Bisogna saper ripensare a sentieri in regioni sconosciute, a incontri inaspettati e congedi previsti da tempo, a giorni dell'infanzia ancora indecifrati, ai genitori che eravamo costretti a ferire quando ci porgevano una gioia e non la comprendevamo. Era una gioia per qualcun altro. A malattie infantili che cominciavano in modo così strano, con tante profonde e gravi trasformazioni, a giorni in camere silenziose raccolte e a mattine sul mare, al mare soprattutto, ai mari, a notti di viaggio che passavano alte rumoreggianti e volavano assieme alle stelle. E non basta ancora poter pensare a tutto questo. Bisogna avere ricordi di molte notti d'amore, nessuno uguale all'altra, di grida di partorienti e di lievi bianche puerpere addormentate che si richiudono. Ma anche accanto ai moribondi bisogna essere stati, bisogna essere rimasti vicino ai morti nella stanza, con la finestra aperta e i rumori affolate. E ancora, avere ricordi non basta, bisogna saperli dimenticare quando sono troppi e avere la grande pazienza d'attendere che i ritornino. perché i ricordi in sé ancora non sono. Solo quando divengono in noi sangue, sguardo e gesto, anonimi e non più distinguibili da noi stessi, solo allora può darsi che in una rarissima ora si levi dal loro centro e sgorghi la prima parola di un verso. Grazie. Grazie. Grazie.